E adesso prepariamo gli anelli di calamaro. No, non è vero, non sono anelli di calamaro. Queste sono zucchine, grandi, eh? Vedete? Quelle che di solito uno dice, ma cosa me ne faccio di quella zucchina lì? Ebbene, se la sbucciate, togliete tutta la mollica in mezzo e la fate a fette. La passate nella farina bianca e poi nell'uovo e nel pangrattato. Avrete questi belli anelli dorati, questi, guardate, da mangiare e stupirete tutti perché sono veramente, veramente buoni. Provate a prepararli, eh? Ciao a tutti! Ciao a tutti!